Benvenuto su Necrologia Italia. Iscriviti e attiva la campanella. Ryan O'Neal è un attore statunitense nato il 20 aprile 1941 a Los Angeles, California. Ha ottenuto la sua notorietà grazie a ruoli cinematografici di successo negli anni 70, tra cui il Love Story nel 1970, che gli ha valso una nomination al premio Oscar come miglior attore. Oltre al cinema, ha recitato in diverse serie televisive di successo. Andre Brauger è un attore statunitense nato il 1 luglio 1962 a Chicago, Illinois. È noto per le sue performance televisive, in particolare per il ruolo del capitano Raymond Holt nella serie comica Brooklyn Nine-Nine. Brauger ha ricevuto numerosi premi, tra cui un Prime Time Emmy Award, per il suo talento e la sua versatilità come attore. Camden Toi è stato un attore statunitense nato il 22 giugno 1955 a Los Angeles, California. È conosciuto per i suoi ruoli in diverse serie televisive di genere fantasy e horror, tra cui Buffy l'ammazzavampiri e Angel. La sua carriera si è concentrata principalmente su ruoli caratteristici e interpretazioni di creature sovrannaturali. Lee Sang-kyun è un attore sudcoreano nato il 2 marzo 1975 a Seoul. Corea del Sud. Ha raggiunto la fama con il film A Parasite il 2019, vincitore del premio Oscar come miglior film. La sua carriera include una vasta gamma di ruoli in film e serie televisive sudcoreane di successo. Ingrid Stiger è un'attrice tedesca nata il 1 aprile 1947 a Berlin Wedding, Germania. È conosciuta per la sua carriera cinematografica e televisiva in Germania, avendo recitato in numerosi film e programmi televisivi di successo. James McEffrey è un attore e doppiatore statunitense nato il 17 giugno 1958 a Belfast, Irlanda del Nord. Ha lavorato in diversi progetti cinematografici, televisivi e videoludici. È noto per il suo lavoro come voce del personaggio Max Payne nei videogiochi omonimi. Eric Montrose è un ex cestista statunitense nato il 23 settembre 1971 a Indianapolis, Indiana. Ha giocato a livello universitario per la University of North Carolina Ati Ciapellile e successivamente è stato scelto come nono assoluto nel draft NBA del 1994. Ha giocato in diverse squadre NBA durante la sua carriera. Carlos Lira è un compositore, cantante e chitarrista brasiliano nato l'11 maggio 1933 a Rio de Janeiro, Brasile. È una figura significativa nella bossa nova, genere musicale brasiliano, ed è noto per le sue composizioni e le sue esibizioni musicali di successo. Zahara è una cantautrice sudafricana nata il 9 novembre 1987 a East London, Sudafrica. Ha raggiunto la fama nel panorama musicale sudafricano con il suo stile distintivo e le sue canzoni che spesso affrontano temi sociali e personali. Zahara ha ricevuto numerosi premi musicali per il suo contributo all'industria. Manny Martinez è stato un batterista statunitense nato il 3 marzo 1954 e ha contribuito alla scena musicale come batterista in diverse band come i Misfits e progetti musicali nel corso della sua carriera. Misfits e progetti musicali